Tanti hanno deciso di accettare la sfida insieme a me e quindi insieme abbiamo cercato un po' di posti un po' di posti che potessero essere adatti a questo progetto e abbiamo trovato questo che è un posto fighissimo, al momento è completamente vuoto come potete vedere e l'idea è quella di riempirlo di cose ma soprattutto di persone, quindi ve la faccio vedere Una casa di tutti, nel cuore di Roma, chi avrebbe mai detto che un video così avrebbe generato tutto questo? La reazione del web, quella di tutti quelli che sono arrivati a dare una mano beh, forse ci si sperava, altrimenti quel video non l'avremmo mai girato ma chi si aspettava che sarebbe cambiato tutto? Il giorno di sole, la piazzetta di Monti, mi fa vedere... Di fretta, tra l'altro Di fretta, sì, avevo anche altri incontri, mi fa vedere una bozza del suo business plan Cavolo che parola, eh, il business plan Ma lì poi ci siamo conosciuti con Ernesto Esatto, perché io non avevo ancora mai visto lui fino a quel giorno e quindi avevo soltanto visto lui, che però aveva visto lui E che io ho visto lui una volta a casa mia È l'era della condivisione, quindi nell'era dell'acquario tutti possono condividere qualcosa e quindi Together nasce proprio, ad hoc in questo momento Una casa Un posto caldo dove chiacchierare Un ambiente accogliente dove innamorarsi Il suono di un campanello che diventa subito familiare Sono io, ho visto il video, posso salire? Sfilate di sorrisi, mani esperte ed impacciate Sguardi timidi in cerca di conferme Sono nel posto giusto Sì, ma quindi siamo pronti a partire? Sì, hai sotto il tuo È pronta la casa? Tu fai il resto È pronta la casa? La casa! Una casa, sì Una casa che nessuno di noi potrebbe permettersi individualmente ma insieme Insieme le cose cambiano Insieme abbiamo un posto da mostrare con orgoglio Un posto dove portare amici, conoscere gente e scoprire cose che prima consideravamo impossibili Io lavoro su una start-up È tipo Uber, ma per i passeggini Un cross inspirational place Un che? L'abbiamo chiamato così Un posto in cui si entra lasciando la porta aperta Un posto in cui si scopre che tutte le tue certezze non sono poi così fondate E i dubbi Rischiano di annegare i travolti dalla marea dei tuoi sogni O dei sogni degli altri Un posto che nasce per accogliere tutti quelli che hanno un obiettivo nella vita ma anche tutti quelli che non l'hanno ancora trovato Un posto dove non c'è spazio per lamentarsi dove se vogliamo fare qualcosa troviamo il modo di riuscirci Per non parlare dell'Imu, la Tasi, l'Herb E se lì va al 22 Qui la gente non arriva a fine mese Una casa che si evolve insieme alle persone che la vivono Una casa che cresce fino a diventare due case Together ha un secondo posto Quindi siamo qui in un together tutto nuovo Una seconda casa O più semplicemente l'estensione della prima Nuove mani Nuovi sorrisi Nuove storie Nuovi sogni Allora Grazie a tutti.